raga siamo usciti con i cani e siamo venuti a vedere il po guardate completamente risondato guardate ragazzi allora la dietro i pioppi è il letto del fiume ha passato dove ci sono tutti questi pioppi anche tutti questi alberi l'argine di cinta ed è arrivato fino qui quindi è tutto esondato quindi tutta la golena anche di cui vi faccio vedere guardate tutta la golena ed è arrivato praticamente fino qui che l'argine maestro ed è poco sotto saranno tre metri proviamo a scendere i funghi e vediamo è cresciuto tantissimo nel senso che ieri che era sabato 19 di ottobre era tutto nel letto quindi c'era ancora oltre al letto c'era tutto il camminamento e oggi guardate dove è arrivato ragazzi quanti funghi praticamente questa discesa arriva sull'argine per rendervi conto di come farvi rendere conto di come alto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti